che consenta alle comunità Togliete quei cartelli, togliete quei cartelli, intervengano i commessi intervengano i commessi per togliere i cartelli allora togliete tutti quei cartelli per favore signor ministro continui prego continui signor ministro più colleghi allora i colleghi della Lega hanno avuto le inquadrature, le fotografie quindi più che continuare riprendo un attimo, un attimo, un attimo, scusatemi vorrei ribadire ai colleghi della Lega che sono state salvate 19.000 vite umane e che noi non baratteremo mai un punto percentuale alle elezioni con 19.000 morti noi non baratteremo mai 19.000 morti con un punto percentuale alle elezioni questo lo fate voi l'Italia è una grande democrazia che ha l'obbligo di garantire sicurezza che ha l'obbligo di garantire l'accoglienza che ha l'obbligo di rispettare i trattati internazionali e noi non faremo morire le persone in mare per 500 mila donne in fine Lega questo lo dovete ricordare perché noi siamo un grande paese ci faremo carico della sicurezza dei nostri cittadini e ci faremo carico di un'accoglienza dignitosa e in tranne le cose se voi volete la sicurezza e volete il morto sappiate che noi vogliamo la sicurezza e vogliamo i vivi questa è la differenza tra una grande democrazia occidentale e la repubblica delle banane colleghi colleghi avete manifestato il vostro dissenso ministro ministro si rivolga all'aula non si rivolga a un gruppo specifico colleghi sono parte onorevole buon anno sono parte dell'aula quindi mi rivolgo anche a loro si rivolga all'aula ministro si rivolga all'aula ministro e siccome teniamo alle mene umane ci mettiamo un po' di passione quando parliamo di un gruppo e non parliamo di un gruppo anche perché mi è capitato mi è capitato anche perché mi è capitato onorevoli colleghi una cosa che non auguro mi capiti più e auguro non capiti a nessuno io sono stato in un freddo anno onorevole buon anno la richiamo all'ordine la richiamo all'ordine per la seconda volta ma anche si onorevole basta presidente basta presidente onorevole la richiamo all'ordine sono mi è capitato mi è capitato un qualcosa mi è capitato un qualcosa che mai avrei pensato potesse verificarsi nella vita mi è capitato mi è capitato di entrare in un freddo hangar di un aeroporto vedendo 90 corpi dentro 90 sacchi e vedendo una bambina appesa al corpo della madre in un sacco in cui ce n'erano due mi sono ripromesso di far di tutto per vedere quei sacchi pieni di morti e al tempo stesso di garantire la sicurezza delle nostre città onorevole Prataviera Bragantini onorevole Prataviera la richiamo all'ordine per la seconda volta la espello dall'aula onorevole Prataviera la espello dall'aula fuori la invito ad uscire onorevole Prataviera esca dall'aula esca dall'aula la invito a uscire i questori intervengano per favore onorevole Prataviera esca dall'aula onorevole all'asia la richiamo all'ordine la richiamo all'ordine onorevole Prataviera esca dall'aula io sospendo la seduta se l'onorevole Prataviera non esce dall'aula esca dall'aula la seduta è sospesa